Un'intera giornata tra stand, aule aperte, incontri con studenti e docenti, oltre ai tanti momenti di festa e il coinvolgimento anche di enti e associazioni. Tutto questo è la Notte Europea dei Ricercatori, evento particolarmente atteso da numerosi Atenei, in particolare dalla Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che ogni anno non risparmia risorse ed energie per promuovere la straordinaria bellezza della conoscenza. Migliaia di giovani ieri hanno preso d'assalto il campus, confrontandosi con oltre 260 iniziative al motto di We Care, ovvero ci prendiamo cura di ragazze e ragazzi chiamati a ritrovare gioia ed entusiasmo, come ha sottolineato il Rettore e il Professore Aliborio Stupia. Esattamente, noi siamo usciti da anni in cui il Covid ha privato di socializzazione questi ragazzi. Il nostro messaggio We Care vuol dire due cose. La prima, ci prendiamo cura di voi. La seconda è che più in generale il mondo universitario, il mondo della ricerca, è un mondo che lavora per produrre qualcosa che serva alle persone e che non sia autoreferenziale. Ci è piaciuto molto questo slogan molto semplice We Care e lo porteremo avanti tutto l'anno come slogan di tutte le iniziative che faremo. L'università si prepara anche in questo grande progetto di espansione? Sì, faremo espansione sia sul polo di Pescara che su questo di Chieti. Abbiamo già rilasciato dei progetti molto importanti da un punto di vista dell'impegno finanziario. Io mi auguro che nel giro di pochi anni la faccia dei due campus sia completamente cambiata e che diventino ancora più belli di quello che ci sono. La serata si è conclusa con l'esibizione dell'orchestra Giovani Archie, la performance degli Eimi, l'immancabile coro dell'Ateneo per proseguire tutta la notte con il DJ set di Care & Vibes DJ Night. Stanca ma soddisfatta la coordinatrice dell'evento, la professoressa Elisabetta Di Mauro, che spiega qual è stato lo spirito che ha accompagnato il grande evento di quest'anno. È faticoso però, devo dire che la soddisfazione poi finale di vedere tutta questa gente radunata qui ripaga di tutto il lavoro che è stato fatto in una settimana piena di eventi. Prima diceva il Rettore, è venuto Luca Bete il 24, ma abbiamo anche richiamato tra di noi Vincenzo Schettini, che l'altro giorno era presente al Graduation Day. E ancora per restare tra i social, quelli che sono, che è la comunicazione dei giovani ormai, è una delle comunicazioni il motivo dove si può divulgare in modo scientifico però in modo buono, sano. E oggi arrivano proprio gli EMI, che raccontano con piccole pillole di salute e prevenzione quello che ognuno di noi dovrebbe fare, gli accorgimenti che dovrebbe avere nella sua vita quotidiana. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, devo dire che siamo stati anche sostenuti da degli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare anche tutto questo e hanno anche collaborato, alcuni sponsor hanno collaborato, ci sono degli stand dedicati perché anche loro hanno delle tematiche, anche le aziende hanno delle tematiche su WeCare che hanno bisogno di farle vedere, di farle conoscere.